Benissimo, buongiorno a tutti. Purtroppo per dei problemi di salute non posso partecipare al convegno della magia di San Marino e quindi trasmetto da Milano questa registrazione sperando comunque di poter raggiungere i tantissimi amici e gli organizzatori del congresso che hanno avuto fiducia in me di potervi proporre qualcosa di interessante attorno al tema emergente, addirittura dilagante, dell'uso dell'intelligenza artificiale nel nostro ambito specifico di interesse che è quello della magia, dell'illusionismo e dei giochi di prestigio. Ho preparato una carrellata di spunti e l'idea sarebbe stata di interagire direttamente in aula ma vedremo comunque di fare qualche cosa di ricco e di interessante. Iniziamo! Proprio in questi giorni è uscito un numero della rivista Magia dove due autori, Guy Elisarossi e l'amico Edoardo Ares hanno dedicato un articolo su questo tema e questo sottolinea quanto interesse ci sia nella comunità magica attorno all'uso di una tecnologia che è dilagata rapidamente negli ultimi anni. Durante l'ultimo anno mi è capitato di fare una prima conferenza sull'intelligenza artificiale che avevo intitolato Le mie due fette di intelligenza artificiale. Io non sono un tecnico informatico anzi non ho assolutamente nessuna competenza, questo è sfidante se mi volete seguire ma anche interessante perché una persona con vero competenze informatiche ha trovato alcune cose da approfondire, da studiare in questo dilagare intensissimo di novità sull'argomento. E appunto vi dicevo dopo l'estate scorsa mi sono trovato a organizzare una conferenza in cui curiosamente chi proponeva queste due fette come se fossero due fette di prelibato salume ero in realtà io in cui il volto del salumiere era stato scambiato col mio grazie a una piccola app di intelligenza artificiale che si presta benissimo a questi scambi di voli. L'intelligenza artificiale naturalmente presenta fin da subito anche alcune incognite, ad esempio questa è l'immagine di un amico che è stato bloccato dai sistemi automatizzati di riconoscimento e di sicurezza di un social perché avrebbe pubblicato delle immagini non opportune. In realtà si trattava, lui è un artista e costruisce oggetti, costruisce sculture con oggetti trovati sulla spiaggia e questa Barbie nuda era stata scambiata evidentemente per un'immagine sconveniente. Il bando era stato automatico, quindi fino a quando qualcuno, una persona in carne e ossa non aveva verificato che non c'era nulla di sconveniente, anzi addirittura di creativo e questo bando vigeva. Quindi attenzione perché affidare, affidarsi troppo alla tecnicità e all'automatismo dell'intelligenza artificiale può risultare particolarmente pericoloso. Quindi stiamo descrivendo punti in luce e punti in ombra di questa tecnologia. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale hanno colpito l'immaginario da ormai tantissimi anni. Chi vedeva i telefilm degli anni 80, anni 90, Supercar, la macchina intelligente che dialogava con il guidatore e insomma abbiamo avuto dei semi di questa magia tecnologica già da tempi abbastanza remoti. Ma quest'anno, anzi l'anno scorso ormai, arriva come un'onda di tsunami perché si parla di nuovi sistemi di intelligenza artificiale alla portata dei consumatori, quindi con una larghissima diffusione, non più soltanto riservati all'uso da parte di esperti di informatica con linguaggi di programmazione e con tecnologie costosissime. No, no. Il tema è che da quest'anno queste tecnologie entrano nelle nostre case attraverso i nostri computer e i nostri smartphone. E appunto c'è una sorta di onda di tsunami dove immediatamente ci sono delle misure di di garanzia, il garante della privacy limita l'uso di chat GPT, che è, lo vedremo, uno dei principali sistemi di intelligenza artificiale entrati nel mercato, per delle questioni di privacy e riservatezza che sarebbero state violate. Alla fine si giunge un accordo e in Italia chat GPT può essere usato anche senza dover usare l'espediente della VPN, cioè fingere di collegarsi da un'altra nazione per potersi collegare. In primavera, primavera scorsa, mi capita un'occasione interessante, sono con un amico al mare e iniziamo a interrogare questa chat GPT, questo oggetto misterioso che c'era capitato di poter usare sul tablet con la VPN, era il periodo delle restrizioni, e quest'amico che è Cesare Albasi, che è uno psicanalista di Torino molto curioso, ci siamo messi a interrogare a chiedere di costruirci il piano di un convegno su una tematica clinica. E la cosa stupefacente è che eravamo in spiaggia, stavamo oziando, eravamo tutt'altro che impegnati a mettere la testa in questo tema, e questa macchina sforna un programma con titoli coerenti, prevedendo addirittura i momenti per le pause caffè, ben organizzato sicuramente, se non come versione definitiva, poi vedremo i limiti dell'uso, ma senz'altro come bozza e incentivo per fare qualche cosa in modo molto vigoroso e potente. Quindi un'occasione straordinaria. Pubblichiamo un articoletto su una rivista di psichiatria e psicoterapia sulle prime considerazioni sull'uso clinico, perché naturalmente chi ha tanto da fare può avere anche grande beneficio da parte di queste tecnologie, i clinici spesso sono oberati di compiti, di responsabilità, ed è uno degli ambiti dove queste tecnologie sembrano più promettenti ma anche più rischiose, perché naturalmente esiste tutto un problema di attendibilità, di affidabilità rispetto a questi strumenti che sono magici. Parliamo di magia infatti, ma è una magia che è già tra noi da parecchio tempo, ad esempio quando scegliamo, ci viene consigliato un film su Netflix, ad esempio questo è il risultato di una profilazione e anche di un'analisi delle nostre abitudini, dei nostri gusti di visione che naturalmente poi vengono elaborati da un sistema che è l'intelligenza artificiale, Amazon lo ha fatto molto presto, già da anni, addirittura costruendo, di fatto riducendo le redazioni gestite da esseri umani e sviluppando dei sistemi automatici per la costruzione delle preferenze. Hai scelto un oggetto, un libro acquistato e quindi potresti, sulla base dell'analisi delle tue abitudini comportamentali, scegliere un altro che ha delle caratteristiche analoge. L'intelligenza artificiale si usa anche in modo non tanto visibile ma è in modo potente, ad esempio nel filtro della posta spam, che nel corso del tempo è sempre più insidiata ma anche come risposta fortemente migliorata e si usa nel riconoscimento della musica, forma qualche anno fa che sembrava un prodigio, in realtà basata su sistemi di questo genere, e molte interazioni oggi con i nostri cellulari passano o passeranno sempre più attraverso sistemi di intelligenza artificiale in grado di interagire come. Questo è il punto centrale. Mentre prima per interagire con una tecnologia informatica sofisticata occorreva saper programmare, adesso basta semplicemente parlare. Quindi chi ha capacità di parola e tanto migliore la capacità di parola, tanto migliore l'interazione con questi nuovi sistemi. Quindi possiamo fare qualche cosa con i mezzi che già utilizziamo. Si tratta naturalmente di una rivoluzione, però è una rivoluzione che come tutti i cambiamenti repentini mette in movimento emozioni contrastanti, impopolarizzate dall'entusiasmo al terrore, alla paura grande. L'invito di oggi è poter conoscere pro e contro per non essere spaventati e poter essere incuriositi, ma essere allo stesso tempo prudenti e coscienti nell'uso di questo strumento potente come lo è un'automobile, come lo è qualsiasi tecnologia che ci migliora la vita ma ce la può anche complicare. Fra le tecnologie che storicamente sono state rivoluzionarie, una di queste è la stampa con i caratteri mobili che ha reso la divulgazione della cultura autonoma rispetto al lavoro degli amanuensi. Ma poi c'è la dinamite, il cinema di cui nei primi anni c'era grande preoccupazione per l'effetto ipnotico, questo interessa ai prestigiatori e agli illusionisti e dove invece poi certo che l'effetto sulle masse delle rappresentazioni mediatiche è tutto un tema interessantissimo, si lega con la propaganda, ma certamente non si usciva dai film con un cambiamento nel cervello come alcuni temevano. E poi il voto alle donne, la volta epocale che sembrava impossibile e dannosissima, l'uso dei telai a vapore, altra rivoluzione che sembrava aver annullato il ruolo del lavoro manuale, quindi che suscita tante preoccupazioni analoghe a quelle di oggi. Nessuno avrà più lavoro, perderemo tutto il lavoro, beh, questo lo vediamo perché naturalmente siamo all'inizio di una fase rivoluzionaria, ma a maggior ragione è interessante accorgersi di cosa cambia. Cambia sicuramente che questa rivoluzione è una rivoluzione che riguarda non i muscoli, ma riguarda la corteccia cerebrale. Sostanzialmente le tecnologie di intelligenza artificiale dannino strumenti per accrescere delle funzioni che riguardano le funzioni cognitive dell'essere umano. Naturalmente le paure nel corso degli anni hanno riguardato la televisione, insomma tutte le tecnologie che ampliano gli orizzonti suscitano anche un senso in qualche modo di minaccia. Vediamo l'evoluzione storica di questi sistemi informatici. Si è passati dal periodo delle informazioni scritte su sistemi meccanici, fisici, le schede perforate, con anche intuizioni importantissime. Qui nell'immagine che guarda, che esamina una scheda perforata, c'è padre Busa, sacerdote cattolico, che a un certo punto decide di rivolgersi all'IBM per studiare dal punto di vista linguistico il corpus tomisticus e l'IBM, che non ha la macchina per farlo, gliela costruisce. E questo dà l'inizio al tema, grandissimo tema, della linguistica computazionale, che poi è la base di questi sistemi di intelligenza artificiale che noi ci troviamo oggi dentro le nostre tasche nei nostri computer. La nascita dell'intelligenza artificiale può essere fatta risalire al 1956 con questa definizione di McCarthy, per cui sono molti anni che se ne parla, e esiste una massima importantissima di Arthur Clarke, che conoscete sicuramente tutti, che dice qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Questo è il tema dell'incontro di oggi, perché abbiamo bisogno di conoscere, ma di saper utilizzare le tecnologie e ottenere possibilmente, nei nostri ambiti degli effetti magici o negli ambiti lavorativi più allargati, degli effetti di potenziamento di quello che potremmo fare soltanto con le nostre risorse naturali. C'è chi non ama il concetto di intelligenza artificiale, ma preferisce prudentemente chiamarla intelligenza aumentata. Se ci preoccupa di meno è un termine, io credo, più appropriato. Intelligenza aumentata è un termine più prudente. Questa intelligenza aumentata è stata resa possibile dalla interazione fra uomo e macchine con macchine sempre più sofisticate, complesse, in grado di eseguire un numero di calcoli al secondo sempre più grande, grazie allo sviluppo delle componenti elettroniche, si è passato dalle valvole ai transistor, e a un certo punto la sfida è stata quella di definire che cosa possa definire essere riconosciuta come intelligenza è quando una macchina diventa indistinguibile da un essere umano nelle risposte. Questo è il tema del famoso testo di Tulling, che tanto sentite citare quando si parla di intelligenza artificiale. Ci sono altri temi importanti, la nostra è una carrellata molto veloce sulla storia dell'intelligenza artificiale, ma che riguarda come le macchine apprendono. Le macchine apprendono perché vengono programmate un insieme delle regole, ad esempio delle mosse che servono per giocare a dama. Nel 1959 viene inventato un programma per giocare a dama e il programma esegue un'infinità di comandi, riuscendo poi anche a vincere a dama. Stesso sistema anni dopo con gli scacchi, molto interessante, quindi con una programmazione attiva di regole. Negli anni ci sono altre evoluzioni che sono i sistemi esperti, dove il tentativo è di costruire l'insieme delle informazioni che servono per svolgere dei compiti complessi, quindi con una programmazione e poi delle operazioni svolte dalle macchine a valle. Finché ci sono delle intuizioni però geniali che cambiano completamente questo panorama e ad esempio c'è l'applicazione, uno di questi è Vapnik, uno di questi autori, che applica le teorie matematiche all'apprendimento delle macchine. E ci sono delle applicazioni che c'entrano con la linguistica, prima parlavamo di padre Buse, e per cui a un certo punto si studiano più che le regole del linguaggio, i messi statistici, le connessioni statisticiche, tra termini, parole e significati, trasformando la programmazione da regole a priori in un sistema che diventa sempre più fluido di analisi delle connessioni. Esiste questo aneddoto di Gielinek, un altro padre dell'intelligenza artificiale moderna, che dice che tutte le volte che licenzo dal mio gruppo un linguista il mio sistema di intelligenza artificiale fa un balzo in avanti. Questo per dire che le competenze sono le competenze statistiche applicate al linguaggio. E questa analisi di linguaggio e programmazione ricorda anche molto tutti gli studi sulla frequenza, sulla forma del linguaggio che erano stati usati ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale per decrittare le trasmissioni fatte con la macchina enigma. Che cosa succede? Succede anche che c'è un forte interesse nell'ambito di questa disciplina che si sviluppa per raccogliere campioni di comportamento, studiare campioni di comportamento per essere in grado di formulare previsioni di tipo probabilistico. Quindi avendo dati possiamo tentare di fare delle ipotesi attendibili rispetto al futuro. Un esempio importante è che nel 99 il sistema Amabot sostituisce quasi completamente le redazioni umane in Amazon, per cui questo che si chiama agente di raccomandazione sostituisce il lavoro oneroso di redazione, di studiare le preferenze di chi aveva comprato cosa, ma tutto si trasforma in flusso di dati. Questa è la aspetto centrale. Nel 2000 circa c'è quello che viene definita la scorciatoria, cioè i modelli teorici sono sostituiti dallo studio sistematico delle correlazioni statistiche che si possono scoprire nei dati. Quindi c'è a un certo punto un concentrarsi dallo studio di regole a priori per programmare allo studio dei dati che possono essere estratti dai fenomeni, dai comportamenti, dalle abitudini, dal linguaggio. E curiosamente nel 2000 c'è l'esplosione nel web dei dati generati dagli utenti, perché sono gli anni dei social e dello sviluppo di un contributo, un'interazione con la rete per cui le persone producono delle loro cose che non vengono più caricate in modo autoritativo, ma vengono caricate dal basso e condivise. C'è un grossissimo dibattito su quanto questa rivoluzione sia una rivoluzione solo informatica o anche umanistica. Qui ci sono due testi da cui ho tratto molti spunti per la conferenza di oggi, che vi invito ad approfondire e a leggere se siete interessati agli aspetti storici e culturali dell'intelligenza artificiale, ma il tema fondamentale che stiamo dicendo è che le macchine a un certo punto sviluppano una nuova capacità che è quella di apprendere facendo. Per cui la macchina sviluppa la capacità di vincere le partite a go imparando il gioco del go, sviluppandolo, osservando le partite e giocando. Questa è una rivoluzione stupefacente. Quindi anziché contare sull'intero patrimonio di tutte le partite che possono essere inserite, la macchina parte da un patrimonio di partite, ma sviluppa e migliora la sua competenza e abilità, giungendo anche a battere il campione del mondo di questo gioco che io non conosco, ma che in Oriente pare sia estremamente diffuso. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello sviluppo di sistemi che riguardano il cosiddetto deep learning o machine learning, lo sviluppo quindi del fatto che le macchine possono produrre e migliorare conoscenza in modo impostato dall'uomo, ma poi in modo autonomo e progressivo. Qual è il punto fondamentale del deep learning? Che è richiesto quindi molto meno intervento umano, ma sono richiesti molti dati. Quali sono le fonti di questi dati? E questo è un passaggio importantissimo perché chi di voi ha avuto passione per i film di spionaggio ricorda i giorni del Condor piuttosto che altre cose in cui c'erano queste attività che sembravano incomprensibili nei primi anni settanta di studio di testi da parte della CIA per estrarre informazioni celate dentro questi testi. No, succede una cosa importantissima attorno al 2004 che Google si mette a scannerizzare tutti i libri del mondo e questo è citato poco, relativamente poco ricordato, ma un punto importantissimo perché permette a Google di acquisire dati sugli aspetti linguistici di tutte le lingue del mondo. E questo è una rivoluzione sostanzialmente perché tutto questo viene tradotto dalla scannerizzazione in dati digitali che permettono quindi di stabilire le connessioni tra parole, tra significati e di avere una conoscenza linguistica basata non su regole ma su un enorme bacino di vita reale. Il tema ha degli spunti anche abbastanza curiosi, pensate ad esempio agli enormi progetti di ricerca genealogica fatti dai mormoni che sono convinti che chi viene ricordato e battezzato anche se morto risusciterà nel giorno del giudizio, per cui interi alberi genealogici nel mondo vengono scannerizzati, elaborati e c'è un grossissimo patrimonio anche di dati genetici che confluiscono con idee un po' strampalate ma che costituiscono di fatto quell'approfondimento sui dati estremamente importante che è il carburante delle intelligenze artificiali. I dati che costituiscono appunto il materiale grezzo, il materiale che alimenta il sistema di intelligenza artificiale sono arricchiti poi dalla quantità mostruosa di dati che circolano sul web, dati dai social, dalle interazioni, dagli scambi, dalle nostre mail e di quant'altro può finire nel analizzato dal sistema. Si dice che i dati sono nuovo petrolio perché? Perché dal punto di vista del potere avere dati e studiare le connessioni permette di fare ipotesi statistiche sul comportamento delle persone e quindi avere strumenti potenti di controllo e di predizione. Traduco, Google ha scannerizzato libri di ogni lingua del mondo, quindi si è in grado di sviluppare sistemi che mettono di seguito in senso compiuto parole dopo le altre, sillabe dopo le altre, formando discorsi di senso compiuto sulla base del valore statistico di queste associazioni. Quindi non di un ragionamento o di una regola. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono le più variegate, dagli assistenti personali alla simulazione della realtà virtuale, la robotica, l'internet delle cose, cioè troviamo sostanzialmente applicazioni in ogni dove. Domanda fondamentale. Qui ridevamo anni fa con un'amica quando facevamo un video curioso in cui c'era un pollo che faceva l'oracolo di Apollo che interrogavamo con dei modi un po' bizzarri, era un modo di ridere, ma oggi rimane valida la domanda come si interroga questa intelligenza artificiale che sembra avere dei poteri da oracolo. Beh, qualcuno tenta di venderci un po' queste competenze, il cosiddetto prompt design, cioè il modo di formulare le domande. A volte ci viene venduto concorsi anche abbastanza a caro prezzo, il tema però di fondo è avere delle competenze di minima e cercare di imparare. La differenza è fra provare e non provare a interagire con il sistema dell'intelligenza artificiale. Se si rimane fuori non si impara, se si fanno degli esperimenti molto cauti ci sono le possibilità che si aprono in maniera sorprendente. Allora, il modo di iniziare è iniziare a consultare un sistema dell'intelligenza artificiale attraverso una formula che abbiamo detto è fatta da parole, non da stringhe di codici, da questioni da informatici di tanti anni fa. No, oggi con le macchine si parla. Come si parla? Sembra un po' il mio lavoro di quando insegno psicologia clinica. Si insegna ai medici e ai psicologi che il dialogo è fatto di domande, fondamentalmente. Le domande possono essere aperte, possono essere quindi dove l'interlocutore risponde con una gamma ampia di risposte, possono essere chiuse, sì o no. Si possono dare delle istruzioni, ci possono essere richieste di informazione. Sostanzialmente la domanda dà uno spunto perché l'interlocutore risponda in un formato più chiuso oppure in un formato più aperto. Questa è un'esperienza che abbiamo. La stessa cosa con la macchina. Possiamo impostare i toni perché naturalmente è diverso se noi parliamo con un giovane, con un anziano, un collega, un superiore. E il tono, che conosciamo tutti nella nostra vita quotidiana, riguarda l'informalità, la formalità, la creatività, la persuasività. Quindi possiamo in questo prompt inserire tutti gli aspetti che riguardano la forma della comunicazione che vogliamo ottenere. Ah, dimenticavo un aspetto molto importante che riguarda il formato in cui ci attendiamo che la macchina risponda perché stiamo parlando per ora di prompt di testo. Quindi io parlo con la macchina e la macchina mi scrive o addirittura mi parla con delle risposte di testo. Ma la macchina è in grado di generare sulle mie richieste codici, quindi codici di programmazione, immagini, aspetto ricchissimo, ma anche video, tendenza emergente negli ultimi tempi, e anche di audio e quindi anche addirittura prodotti musicali generati dal punto di vista artificiale. Le altre istruzioni che contengono, che fanno parte del prompt sono naturalmente la lunghezza, voglio una risposta lunga, voglio una risposta breve, che stile, e la tematica. Una caratteristica interessantissima, dicevamo, è proprio quella dell'essere un dialogo con la macchina. Quindi fra gli espedienti, che io non vi rendo a caro prezzo, ma sono gli espedienti che poi funzionano di più, almeno nella mia esperienza di questi mesi di utilizzo abbastanza intenso dell'intelligenza artificiale, c'è il fatto di intanto non pretendere che la risposta sia perfetta alla prima. Questa è una regola universale, così come nelle relazioni dobbiamo prima costruire un po' di rapporto perché il dialogo funzioni, così con la macchina è importante formulare bene la domanda e dare il contesto, perché sì, stiamo parlando ai maghi, ma la macchina le magie le fa solo se le aiutiamo a fabbricarle, e quindi dare il contesto aiuta ad avere una risposta più pertinente. Dall'altra si può correggere il tiro e progressivamente dare degli elementi per migliorare la risposta sulla base di quello che noi abbiamo in mente. Le applicazioni. Le applicazioni sono importantissime, ad esempio oggi un termine che io non amo è creazione di contenuti. Cosa sono i contenuti? Sono i post, sono i vecchi temi o gli articoli, i pezzi redazionali, i testi, una lettera per un amico. Questo può essere chiesto e grazie le competenze linguistiche di questi sistemi, le risposte spesso sono stupefacenti in termini di qualità. Scrivono come se sapessero. Questo è l'aspetto decisamente magico di questa tecnologia. Però, fra le funzioni, le altre funzioni, c'è la capacità di risolvere problemi, c'è lo scrivere codice, codice informatico, non è il mio tema, ma ve lo segnalo perché gli amici informatici pare che siano molto aiutati su alcune problematiche da scrittura e codice. Si può rendere personale l'interazione di un utente con un sito, perché è un'interazione dinamica, quindi non un insieme di set di risposte preformate, ma sulla base di quello che uno domanda gli viene risposto. È interessantissimo nella formazione tutto un mondo. Probabilmente nella scuola elementare, in scuola media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale richiederà delle cautele molto grandi, ma ad esempio nell'educazione universitaria l'uso dell'intelligenza artificiale già offre delle risorse e degli aspetti che sono molto potenti, senz'altro da conoscere e da imparare a usare, perché il punto fondamentale è che non abbiamo oggi dei maestri che vengono da una generazione precedente che ne sa. Sì, gli informatici hanno avuto uno sviluppo, hanno una buonissima cultura della storia, ma questi sistemi sono evoluti così rapidamente che sostanzialmente l'applicazione è recentissima. E quindi il modo di essere curiosi e di approfondire è l'unico modo per imparare. E qui mi piace parlarne in un festival della magia, perché fra le persone più curiose che io conosco ci sono sì i ricercatori accademici, a volte, ma anche e soprattutto i matighi che sono interessati a tutte le anomalie e gli espedienti per suscitare meraviglia e quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento senz'altro molto affine agli obiettivi dello stupire il pubblico. Ci sono altre applicazioni intorno ad esempio fornire assistenza clienti personalizzata. Già da anni alcuni di noi non vanno più in banca e se c'è un problema interagiscono con un bot, perché in qualche modo delle risposte le dà sempre più perfezionate. Vediamo adesso delle cose pratiche. Il taglio alla conferenza voleva essere pratico, c'è il fatto che per iniziare bisogna rompere il ghiaccio, bisogna rompere il ghiaccio e non occorre spendere, almeno nella fase iniziale, nulla per provare questi sistemi, perché ad esempio il certo GPT è nella versione 3.5 gratuita, piuttosto che Bing è già accessibile attraverso, poi vedremo le evoluzioni, perché poi già nel giro di pochissimi mesi alcuni nomi sono mutati e sennò c'è il Google Bard di Google. Tutti quindi liberamente accessibili da PC fisso, da tablet e addirittura con applicazione cellulare. Sono state novità frenetiche, in primavera ogni settimana usciva un sistema, un'innovazione al sistema. Io ho fatto una sperimentazione abbastanza serrata, anche perché già per dei problemi di salute che mi sono venuti in primavera ho avuto un po' di tempo da dedicare a questi aspetti di curiosità e appunto ho sperimentato Aria, che era integrato nel browser Opera, ho sperimentato Bard che adesso si chiama Gemini, o Gemini come dicono all'americana, ho sperimentato Bing che anch'esso ha cambiato, è una metamorfosi rapidissima, nome ed è diventato Copilot e poi ChatGPT3, ChatGPT4, versione gratuita e versione a pagamento e in più anche Antropic Club. Tutti li ho fatti in versione gratuita tranne ChatGPT o Copilot che ho fatto in versione a pagamento. Attualmente, tanto per dirvi una cosa pratica, l'unico abbonamento che ho mantenuto, che costa, tanto per tradurre in un dato concreto, 20 dollari al mese è ChatGPT perché offre per le mie esigenze di studioso universitario ma anche di persona curiosa tutta una serie di risorse che secondo me sono superiori a quelle di altri sistemi. Questo è vero oggi, non sarà vero magari dopo domani perché i sistemi sono in rapida evoluzione, ma appunto questa è la situazione attuale in cui è possibile essere curiosi, non c'è una soglia di accesso problematica, non occorrono molte risorse, ma si può sperimentare vari sistemi e poi capire qual è il più rispondente rispetto a sé. Facciamo una breve carrellata su che cosa si trova interrogando questi sistemi. Ad esempio, Bing rispondeva correttamente quando gli chiedevo chi è Carlo Alfredo Clerici, che è forse l'unico argomento che posso dire di padroneggiare un po', chi sono io risponde bene. Copilot ugualmente bene, Bard dice che non può attingere dalla rete e quindi non sa chi sono e questo mi crea un po' di dispetto ovviamente, Bard poi diventa Gemini, Gemini anche lui ha problemi di accesso e Aria invece risponde avendo utili informazioni. ChatGPT3 non interagiva con la rete quindi continua a non conoscermi, ChatGPT4 mi conosce a fondo ed è in grado di citare le mie attività scientifiche e non soltanto quelle. Quindi sostanzialmente non si tratta di sistemi che fungono da motore di ricerca, no, perché se li utilizziamo come se fossero i motori di ricerca stiamo usando male le loro potenzialità, ma possiamo utilizzarli per ottenere comunque una revisione di quello che è presente in rete. Qui Antropic Cloud che è molto interessante, adesso ne esiste una versione più moderna, più evoluta, risponde confabulando, dice che sono un personaggio televisivo italiano. Sono tante cose ma questo certamente non lo sono, su questo bisogna fare attenzione perché le false risposte sono il problema. Ed è il motivo per cui occorre non disertare, non abbandonare quello che abbiamo imparato da persone colte per il fatto che la verifica delle fonti è un aspetto centrale ogni volta che noi facciamo delle affermazioni. Quindi quando ci documentiamo dobbiamo essere certi che da dove prendiamo le informazioni ci sia attendibilità. I sistemi intelligenza artificiale tendono, lo vedremo, ad ingannare. Dicevamo, l'obiettivo non è usarli da motori di ricerca, fungono anche questa funzione, ma non è la funzione principale, ma servono da aiutanti. Per cui dopo l'entusiasmo del festival di qualche anno fa, la conferenza sul lockpicking, la manipolazione di Grimaldelli, gli dico costruiscimi il programma di una conferenza sul lockpicking da tenere in un circolo di magia e Bing, Bard, Copilot, ChatGPT, Gemini, Anthropic Cloud mi fanno un programma simile ma con alcune varianti, dettagliatissimo, perfetto, che io se avessi possibilità futura di proporre sicuramente mi baserei sulle risposte, perché basta limare un po', modifichare alcune cose, che hanno già fatto lo sforzo, che non è concettuale ma il materiale lo ricavano da questo immenso patrimonio di dati e di connessioni, e quello che è stupefacente è che viene generato un testo assolutamente coerente con quelli che sarebbero i miei intendimenti, i desideri per fare un buon corso dedicato alla manipolazione del serratore. Questa è una tabella comparativa sui vari sistemi di intelligenza artificiale, vi dicevo il rischio è di investire esclusivamente su uno, è importante essere curiosi, sicuramente ce ne sono alcuni, alcuni ve li ho citati, quelli principali. ChatGPT è quello di cui si è parlato di più, perché per vari motivi, non ultimo anche il blocco da parte del garante della privacy, che come tutte le proibizioni ha aumentato anche l'attenzione, ma è un gigantesco progetto che permette nella versione 4 di navigare in rete, di esaminare documenti, per cui se c'è un testo complesso lo si può caricare e il sistema di intelligenza artificiale lo legge, ne estrae dei dati, come se lo leggeste voi, risparmiando una quantità di tempo molto consistente. Interessante, questa è una nota di cui mi diceva di parlare Carlo Faggi, l'amico Carlo Faggi, Magofax, che ringrazio perché mi ha aiutato moltissimo nel preparare questa conferenza in cui tutti i problemi naturalmente sono colpa mia, ma certi aspetti li ha sottolineati con grande acutezza, come fa sempre, e mi ha detto attenzione spiega che questi sistemi di intelligenza artificiale ci si abbona con la carta di credito possono essere disdetti, io non ho mai trovato problemi, col chat GPT mi sono iscritto e disiscritto a ritmi alterni, perché un po' non mi fido, in realtà sono affidabili, sono grosse company, affidabili i costi, vi dicevo, oggi per uno che vuole fare il primo passo evoluto, secondo me è sufficiente per la maggior parte delle esigenze, è di circa 20 dollari al mese per la versione di chat GPT a pagamento, questo non è uno spazio pubblicitario, ma è un racconto della mia esperienza. Chat GPT ha possibilità in una sua versione di navigare in rete, quindi funziona anche potenzialmente come motore di ricerca, ma vuol dire che è in grado di interagire con banche dati, con altri aspetti importanti. Altri aspetti potentissimi. Se lo puoi immaginare, lo puoi realizzare. Questa è una regola della magia, credo che fosse una frase di Walt Disney, rischio di dire uno strafalcione, non mi sono documentato filologicamente, ma questa cosa è oggi vera. Tra il potenziale maggiore dell'uso dell'intelligenza artificiale c'è la produzione di immagini. Produzione di immagini che può essere fatta con vari sistemi, non tutti, ma vari sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio Bing, ad esempio Dali, che poi si è evoluto in varie versioni, Copilot, e Dali 3 è oggi integrato in chat GPT, per cui quando voi andate in chat GPT nella versione a pagamento potete produrre immagini attraverso questo sistema Dali 3. Lo stesso è gratuito attraverso Bing. Quindi sostanzialmente c'è una convergenza di questi sistemi. Ci si arriva con una via a pagamento un po' più rapida, un po' più facile, ma c'è anche una via gratuita per poter usare questo tipo di funzionalità. Cos'è importante? È molto importante l'aspetto pratico perché naturalmente la generazione di immagini richiede che uno intanto si immagini l'immagine, scusate il bisticcio di parole, che sia in grado di spiegarlo in una forma comprensibile, per cui la macchina ha tutti i dati per poter sviluppare l'immagine in maniera coerente e poi sperimentare e correggere il tiro. Si possono fare delle cose interessantissime. Ad esempio c'è un prompt che permette di generare un'immagine di Lego, ad esempio di se stessi, questo sono io che faccio il medico, con una confezione Lego, e anche qui non è una pubblicità ma una curiosità, ha divertito moltissimo, è una cosa che ho trovato in rete, non l'ho inventata io, quindi non ne ho il copyright, ma è una formulazione che spiega con parole messe in un certo ordine che cosa ottenere da un'immagine interessante. In ambito clinico a me capita di dover usare per fare lezioni delle immagini che non potrei produrre nella realtà se non con dei grossi vincoli di riservatezza, e questo è un infermiere che parla con un paziente giovane e che però entrambe queste persone non esistono e quindi non c'è un problema di tutelare la privacy come se uno dovesse fare uno scatto in un contesto reale, chiedere l'autorizzazione, quindi immaginatevi delle cose molto complesse. E poi possiamo immaginarsi le cose più bizzarre, questo è un giorno, non so che cosa avevo in mente, ma genero questa parata di sacerdoti in nero, religiosi in nero, in anni non molto lontani mi sarebbe servito uno studio fotografico, costumisti, un teatro di posa, soldi a profusione, in realtà ho l'idea e la macchina è in grado di generarmi. Qui è su uno schermo grande, è una risoluzione molto buona, migliorabile peraltro, e dove naturalmente questo aspetto di immagine sognata diventa un'immagine realizzata. Nel campo della magia possiamo fare di tutto, la produzione di locandine, la possibilità di ricreare scenari, questo è una scuola immaginaria di magia, un po' l'Harry Potter, un po' no. Questa è una lezione dove io ho provato a ricreare due docenti, un giovane e un vecchio, che parlano di intelligenza artificiale. Gli studenti avrei dovuto avere 20 studenti da mettere in posa, ore di tempo in pochi secondi si genera qualcosa di una qualità che è straordinaria. E poi vi faccio vedere, qui è il mago che mostra, pensavo all'occasione di San Marino, mostra l'intelligenza artificiale con questa ragazza, assistente del mago, a cui è possibile attribuire un'emozione crescente, per cui lo stupore è una delle pennellate che noi possiamo dare a questa immagine, completamente costruita spiegando all'intelligenza artificiale cosa abbiamo in mente e che cosa deve realizzare, quindi raccontando e ottenendo un effetto di progressivo incremento della meraviglia. E' possibile, d'altro canto, generare anche immagini con stili molto più tradizionali, antichi, ad esempio questi ex libris, che io mi sono divertito, che forse non hanno nulla di magico, ma a me mi piacciono, che vengono fatti in uno stile del primo dovercento, art deco, oppure delle immagini che possono servire per pubblicizzare un podcast che vengono fatte con colori e caratteri che ricordano un po' il linguaggio semplice e direttamente comunicativo, che sono senz'altro di grandissimo interesse. Intelligenza artificiale e magia, quindi, è un connubio potente che noi possiamo mettere, unire delle competenze di tipo tecnologico, degli strumenti di tipo tecnologico, e la nostra desiderio di sognare per portare le persone altrove rispetto alla realtà concreta e materiale. Ci sono delle possibilità anche per chi, ad esempio, ha curiosità di immaginarsi scenari di tipo magico. Qui, ad esempio, ho provato a ricostruire un book test compiuto da un rabbino nella Torino dell'Ottocento, di cui avevo letto una descrizione, mi arrovellavo per capire come poteva essere. Qui, filologicamente, è senz'altro sbagliato, però l'emozione c'è. Cioè, io mi ci vedo in questa scena, piuttosto che scene di esperimenti di telepatia, di mentalismo, lo chiameremmo oggi, e dove il pubblico è incantato dalle prestazioni, dai prodigi che il mentalista è in grado di generare, ci sarebbe bisogno di un teatro di posa e in realtà lo facciamo, come abbiamo già detto, con poche istruzioni, semplici, piuttosto che possiamo giocare sulle immagini secondo gli stilemi dei manifesti meravigliosi del circo e della magia dei primi al Novecento, straordinarie, sono opere artistiche, anche ricercatissime sul mercato collezionistico, noi ne possiamo generare di moderne secondo questi stili. E allora la locandina era il cavallo prodigio e questo mi è particolarmente caro perché, ad esempio, in un'operazione, un po' di rivisitazione del passato, mi sono trovato a cercare di dare una nuova veste, una nuova vita, un tentativo di vita, anche al mio antenato, Nelson Lefolet, che era un illusionista e trasformista di cui io avevo poche immagini, ma che oggi con l'intelligenza artificiale possono essere ricomposte e addirittura potremmo farlo parlare, che potremmo fare un personaggio con le sue sembianze che non abbiamo purtroppo registrazione e la sua voce, se le avessero potremmo avere qualche cosa che parla e si esprime come lui. Molto interessante queste prospettive, queste frontiere, sono tutte da sperimentare. Le locandine. Le locandine mi è capitato di produrre in amicizia per amici che organizzano spettacoli di magia dare un contributo alla realizzazione delle locandine. Io non sono un grafico, il grafico probabilmente continuerà a servire tantissimo, ma c'è la possibilità di tradurre l'idea in un'immagine, in un modo rapidissimo, economico, estremamente potente, estremamente interessante e che nella comunicazione magica, pubblicitaria, ma anche nell'allestimento degli spettacoli è una possibilità che fino a pochi anni fa era limitata soltanto a chiedere una larghezza di mezzi assolutamente irraggiungibile da una persona singola. Naturalmente gli usi avanzati sono di interesse, questi fotografici sulle immagini sono fra quelli che io vi suggerisco di più di esplorare, ma c'è l'analisi dei pdf, ad esempio dei testi o dei documenti, per cui se io do dei documenti, l'intelligenza artificiale è in grado di leggerli, elaborarli, imparare da questi documenti e generarmi delle risposte. Ci sono vari sistemi in grado di interrogare i pdf, qui ve ne ho fatto un elenco, chat gpt nella versione a pagamento è fra quelli che assicura delle risposte migliori e più attendibili. Altri dettagli, non so se interessano tanto il mago, sì, però interessano la persona colta, in generale c'è una capacità di questi sistemi, in particolare c'è GPT 4, di analizzare i set di dati, per cui se date tabelle di Excel, come si faceva una volta di andare a interrogare lo statistico che dava un'occhiata ai numeri che avevamo ricavato alla ricerca, oggi lo si può fare in automatico, con lo statistico che è sempre a disposizione, che non va quindi più in seguito, con il costo modesto che vi ho già citato e dove ad esempio una delle esperienze classiche che si può fare nei primi momenti in cui ho imparato a usare questa tecnologia è stata quella di dare i dataset famosi, ad esempio i passaggeri del Titanic e chiedere la correlazione fra mortalità e classe di viaggio del biglietto del Titanic, dove è noto, è noto che chi viaggiava in prima classe si è salvato di più e le analisi statistiche con questi set di dati portano a confermare questa che era una storia nota, ma che può essere analizzata, riscritta, partendo proprio dai dati. Naturalmente se avete dati vostri, questo lo rende molto interessante, le applicazioni nel commercio, nel marketing, sono applicazioni emergenti di cui io sono informato solo in maniera molto sommaria, ma ciascuno di voi può approfondire grazie anche ai corsi che ci sono e che oggi sono sempre più diffusi, anche gratuiti, ma questo è molto interessante. Vi voglio dire qualche altra piccola nota attorno al tema del chat GPT. Chat GPT 4, nella sua versione, quindi a pagamento, ha le funzioni di Dali 3, di generazione di immagini, e si può, una volta che si è avuto accesso a questo sistema, anche nella versione gratuita peraltro, di impostare l'istruzione personalizzata. Cioè possiamo spiegare chi siamo e che cosa vogliamo in modo che il sistema ci risponda in modo secondo una certa abitudine di interazione che abbiamo. Io ad esempio ho spiegato che sono un medico, sono docente universitario, che competenze ho, e quindi che cosa mi aspetto? Mi aspetto che mi rispondi in italiano, che mi rispondi in modo preciso, che mi citi le fonti, in modo che io posso verificare la veridicità dei dati che il sistema intelligenza artificiale mi dà. Questo è un aspetto importante. Tra le cose curiose c'è stata una grossissima riflessione. Qui un esperto di questo tema è Pierangelo Garzia, amico, giornalista, mago, che si è dedicato ad approfondire il tema della creatività e in effetti questi sistemi non inventano la creatività e dell'uomo, ma naturalmente l'amplificazione dello studio, della memoria, dell'approfondimento è una frontiera interessante perché, ad esempio, interrogando questi sistemi, questi sistemi possono proporre in forma nuova dei giochi di magia e quindi mi sono un po' divertito a cercare di interrogare e vedere che proposte fanno. Per ora si tratta di giochi piuttosto semplici, però la letteratura è anche copilot, cioè qualcuno in rete che ha provato a sviluppare anche con YouTube questa idea che l'intelligenza artificiale potrebbe dare un contributo alla creatività magica, c'è una interessante pubblicistica di alcuni anni fa sul tema della generazione di giochi di magia, di numeri di magia attraverso l'intelligenza artificiale con la generazione addirittura di alcuni giochi come un puzzle che sfrutta un principio già ben conosciuto ma è i 12 maghi di Osiride in cui spostando 12 forme geometriche diventano 10, c'è tutta la spiegazione, sono lavori pubblicati su rivista di area psicologica perché sembra estremamente interessante vedere come queste macchine possono gestire dei processi creativi, cioè generare qualche cosa dal nulla, dall'esperienza. Secondo me il più interessante è la possibilità offerta dai GPT personalizzati, cioè da una funzione particolare di chat GPT che consiste nel poter dare delle istruzioni programmate, cioè addestrarli su specifici testi e per divertimento abbiamo realizzato con questo sistema di costruzione di GPT personalizzati un GPT personalizzato che abbiamo chiamato Magician che ha ricevuto un'istruzione su testi di magia in particolare sul Tarbell e che quindi stiamo cercando di capire se offre delle risposte più precise ad esempio chiedendo suggerimenti operativi nello svolgimento di un gioco di prestigio e questo gioco si presenta così sono Magician nel tuo chatbot di consulenza sull'illusionismo sono qui per guidarti attraverso questo mondo affascinante fornendoti informazioni consigli e trucchi allora questa è una versione test daremo poi il link stiamo cercando di capire quanto funziona di più rispetto a chat GPT generale quindi ha basato la sua riconoscenza non specificamente su testi dedicati all'illusionismo anche qui ringrazio Carlo Faggi che ha messo a disposizione la sua enciclopedia stupire di anni fa che rimane una pietra migliare nella nostra nella nostra cultura magica un accenno soltanto di cui non sono specialista ma che vi voglio dire è quello della generazione della musica perché con i sistemi di intelligenza artificiale è possibile generare brani musicali basi musicali l'aspetto interessante è libero da copyright e quindi aspetti che riguardano la CIA riguardano il pagamento riguardano il registro il border che tutti gli artisti conoscono come un aspetto particolarmente impegnativo potrebbero avere un sollievo attraverso l'utilizzo di questo tipo di tecnologia perché ogni volta si potrebbe generare qualche cosa di nuovo e di autonomo sul tema dell'intelligenza artificiale e l'illusione ci sono infinite altre cose naturalmente come questa la possibilità di generare illusioni ottiche questa è se strizzate gli occhi leggete Carlo Faggi sulle magliette di chi cammina è un'illusione ottica interessante Carlo ha il museo l'imaginarium che è un museo itinerante favoloso e mi ha regalato questa immagine e dove naturalmente ritorniamo al tema più classico e più importante che è naturalmente quello che è ingannare la nostra mente e quindi il prestigiatore l'illusionista ha capacità di influire su questi aspetti di fragilità percettiva per ottenere degli effetti che siano sorprendenti la storia non è nuova della tecnologia e della magia perché ad esempio Meliè a fine ottocento utilizzava il cinema e in particolare fu un inventore lo sappiamo tutti del montaggio quindi padre della disciplina cinematografica e anche uno dei grandi padri della magia moderna per realizzare con costi per l'epoca importantissimi scenari per dare per dare corpo a la ricchezza dell'immaginazione che aveva non finì benissimo dal punto di vista economico oggi Meliè probabilmente ogni tanto mi sono divertito a immaginare che atteggiamento avrebbe potuto avere verso l'intelligenza artificiale credo che ne sarebbe stato entusiasta e non sarebbe finito a vendere dalla stazione di treni giocattoli per bambini come fase diciamo anche se poi riuscì tardivamente a ottenere pieno riconoscimento del suo genio ma naturalmente ci sono delle possibilità che prima erano soltanto la portata di una grandissima ricchezza di mezzi questa è un'immagine che mi è cara e siamo affiancati io e il mio antenato Nelson Le Folet quindi anche con una curiosa possibilità di spostare i piani di rendere presenti oggi delle cose del passato e la possibilità di valicare i confini della materia della concretezza e del tempo è una possibilità interessantissima per la magia qualche consiglio pratico tenere sempre un sistema di intelligenza artificiale a disposizione io ho più o meno sempre aperto sullo schermo chat gpt ho un'app pronta per usare chat gpt dal cellulare riflettere naturalmente abbiamo detto che queste tecnologie non sono la soluzione sono un aiuto queste tecnologie non inventano non creano aiutano quindi informarsi è importantissimo l'altro sperimentare cioè sporcarsi le mani mettersi a provare e vedere l'effetto l'intelligenza artificiale non deve sostituire ma aumentare la presenza umana quindi vuol dire che possiamo pensare di delegare le funzioni noiose a questi sistemi le funzioni ripetitive e invece cercare di ottenere un maggiore spazio di autonomia per quelle funzioni che sono veramente di alto livello della persona quindi possiamo pensare di affrancarci dagli aspetti più noiosi o onerosi e poterci dedicare agli aspetti più qualitativi del nostro funzionamento rischi i rischi i rischi sono molto importanti ne abbiamo sentito parlare ne sentiamo parlare alcuni parlano solo di rischi dell'intelligenza artificiale andrà tutto in rovina l'uomo non conterà più nulla no non è così sono le stesse cose che sono state dette quando c'è stato stato introdotto il cinema la televisione è chiaro che qualsiasi novità importante porta ad un intenso cambiamento è meglio governare il cambiamento o capirlo che esserne travolte i rischi i rischi cioè chi dalla tecnologia ha un rischio ha una percezione di rischio assolutamente anche così spaventosa persecutoria questo era un personaggio a Milano molto conosciuto che diceva che in tutte le chiese c'erano macchinari che cambiavano la mente delle persone interessantissimo ma non era la tecnologia il tema e ci sono degli antecedenti storici la letteratura al cinema ci ha parlato della macchina che ha un potere di influsso sulla persona sicuramente gli aspetti che oggi vengono citati come pericolosi sono quelli che riguardano ad esempio l'attentato alla possibilità di libertà e democrazia attraverso la diffusione di false notizie Putin non ci risulta essere stato in manette e Papa ha un piumone decisamente poco papale almeno secondo gli stilemi classici sono immagini generate e qui naturalmente la critica scatta immediatamente ma su immagini più sottili se avete sentito anche cronache degli ultimi giorni la differenza fra reale e verosimile fra vero e falso diventa una verità molto labile secondo aspetto importantissimo da tenere in conto è il fenomeno delle allucinazioni il fenomeno dell'allucinazione dice che c'è un racconto per tutti importantissimo nella primavera scorsa un avvocato americano fa un atto un ricorso e cita dei precedenti nel diritto angloamericano i precedenti fanno giurisprudenza si va in giudizio e a un certo punto viene riscontrato che tutti questi precedenti scritti benissimo in modo vero sin sono falsi inventati la macchina se non sa rispondere si inventa capite che un assistente che se non sa rispondere si inventa è un problema quindi attenzione massima perché inventa molto bene questa è la caratteristica singolare bisogna continuare ad esercitare un controllo e una verifica delle fonti che è un diciamo una procedura che fa parte di qualsiasi processo culturalmente fondato altro aspetto è che l'intelligenza artificiale non ha una responsabilità penale quindi noi siamo sempre i responsabili delle azioni che compiamo con l'intelligenza artificiale e quindi sostanzialmente con questi cavert con queste avvertenze sui rischi l'invito è però di imparare di aggiornarsi evolvere e quindi con le regole che abbiamo detto gli stimoli che abbiamo detto che è di reagire rispetto a questa novità con lo spirito che è caratteristico della magia cioè la curiosità il senso critico l'entusiasmo e la volontà di trascendere i ristretti limiti del quotidiano e della materia contingente in nome del fatto che esista una dimensione di ideale e anche di sogno che è meravigliosa e questa è secondo me l'essenza della magia e con questo vi saluto e vi do appuntamento spero prestissimo un caro saluto a tutti che e in l'esercizio è in l'esercizio